si chiedonovi per i teri figli che sono kick ma non si che ha mai avuto non ho mai avuto non ho mai avuto che non si può che non si può perché il lato il lato diventato qui di nuovo c'è vita ci sono che ti cassa questo è qui è qui il la mia vita è la mia vita e non significa che la mia vita e il mio lavoro di raccoglie che non si stanno che non si stanno che non si stanno è il mio lavoro che non si stanno il nostro lavoro è il suo lavoro il mio lavoro non si chiede signori ma insieme alla vostra senza l'epoca nella vostra modificazione del momento che ci sono nella vostra se non sono sempre Un'oro importante è quello che ci abbia fatto Ma viene addomina e inkorente ma la loro convinzione di riciclatazione Sarà, 싶은e di riciclatazione qui sia un grande значление un personaggio che dia besondere Come si inseriscono anche subito Buon nasima non è così più importante e se non ci sono stati come la sua parte del Somali e non ci sono stati che sono stati ed è stati stati con i nostri stati che sono stati stati che sono stati non c'è la sua parte di cui lui vede a un'arico e queste cose sono stati sono stati sono stati stati sono stati stati Questo è un'ラke pubblico che c'è meglio. Dato noi e le 21 l'e 10 , le 21 l'e 10 Pensiamo qui si accaduta a ciò che è un luogo a lui e di un uomo, un uomo e le 21 l'e 10 Questo è un luogo a lui e l' Trucene Quando una nuova abbastanza 30 anni fa il dì 21 Il giusto che vediamo il bambino e il che avrebbe fatto del lavoro ma non è il bambino con la sua vita La prima cosa è che ti ripetano E se tu le parlano io non ti ripetano E quello che ti ripetano è sempre un bambino Il fatto di andare a casa Non è un bambino che non vi sa qui E questo non vede Ma non è bambino che non vivi E quello anche io non si tratti Non è tu si chiama La mia le personeので salata in la parla con il cuore di loro in l'agenda di voi serata con il cuore di decomettere in manca e 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 Grazie a tutti